Dovremmo rivolgerci al TAR per avere diritto a ciò che i gelesi, i piazzesi e i nicemesi hanno scelto e lo faremo attraverso un pool di avvocati che sarà di primo ordine. Appunto il primo avvocato che abbiamo contattato, che ha accettato di seguire questa vicenda è il professore Gettane Armao. La scelta è stata fatta di concerto con l'amministrazione di Gela, adesso aspetteremo le altre amministrazioni per conoscere anche i nomi degli altri professori che a breve renderemo noti. La dichiarazione appena sentita e rilasciata ieri dal coordinatore del Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese, Filippo Varanzone, non è andata giù al Comitato Gelensis Populus, sì alle battaglie per averle riconosciuto il diritto all'emigrazione alla città metropolitana di Catania, ma come mai sostiene il portavoce, Riliana Bellardita, l'iniziativa è stata presa di concerto con l'amministrazione comunale? La scelta del professionista è stata fatta dal Comitato congiuntamente all'amministrazione. Io, chiaramente, come penso qualunque cittadino, ligio, è andato presso il sito online del Comune di Gela per andare a verificare se esisteva una delibera, perché i professionisti si incaricano con delle delibere di giunta. Devo essere sincera, fino a questa mattina, tarda mattinata, non esiste una delibera di giunta in cui risulta la nomina fatta da questo professionista. Per cui vorremmo capire a che titolo il signor Franzone fa questa dichiarazione, alla quale comunque noi applaudiamo perché la nomina di un professionista è quello che noi abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere. Il nostro countdown non smette, continuerà, fino alla proposizione del ricorso. Ci saremmo aspettati che analoga dichiarazione, o meglio, questa dichiarazione, venisse fatta dall'amministrazione. Ed inoltre aggiungo che la necessità della verifica dell'esistenza di una delibera di incarico si rende necessaria anche per capire l'incarico, il contenuto, l'oggetto dell'incarico che viene dato al professionista. Il professionista è uno stimato avvocato amministrativista. Vorremmo capire qual è l'atto che dovrà essere impugnato. E visto che veniamo tacciati di falsità in ordine a termini per l'impugnazione, che ce li vengano a dare quali sono questi termini dell'impugnazione. Invece di rimare tutti nella stessa direzione, poi ogni giorno sorge una polemica. La battaglia dei liberi consorsi e delle città metropolitane è una battaglia della comunità gelese. Non c'è nessuno che può assolutamente arrogarsi il diritto, e neanche meno io, di dire che è una battaglia mia.